Le previsioni dei meteorologi non hanno tradito le aspettative. La torre d'estate 2017 sembra infatti aver subito un brusco stop in una settimana caratterizzata da forti rovesci e temperature in netto calo. La Sala Operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia, per tutta la giornata di oggi, ha confermato la moderata criticità, codice arancione, per rischio idrogeologico, idraulico e temporali e ventoforti già in vigore dalla mezzanotte. Rafiche di vento, nubi fragi, fiumi e torrenti a livello di guardia hanno caratterizzato questo mercoledì in Valtellina e Val Chiavenna. Fortunatamente, nonostante le proibitive condizioni atmosferiche, non si segnalano episodi di particolare criticità. I vigili del fuoco sono intervenuti per tagliare diverse piante pericolanti e per mettere in sicurezza un muretto a traona. Le piogge torrenziali non hanno certo giovato al trasporto ferroviario, tanti disagi segnalati anche oggi, tra cui una serie di notevoli ritardi sulla linea Tirano, Sondrio, Lecco e Milano, causati da un guasto agli impianti presso la stazione di Debbio.